Un'altra lite tra stranieri finita a colpi di coltello. Dopo il grave episodio di Piazza Perugino, un altro caso di violenza si è registrato nel pomeriggio di sabato 24 agosto in via Oriani in Barriera Vecchia. Un pomeriggio d'alta tensione dove gli operatori del nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale che transitavano presso Piazza Garibaldi hanno notato alcuni uomini che discutevano animatamente tra loro. Quando gli agenti si sono avvicinati per porre fine al diverbio, un 33enne ha colpito un connazionale di 22 anni che è caduto a terra battendo violentemente il capo. I motivi dell'alterco sono ancora da accertare. All'arrivo degli agenti uno dei contendenti era disteso parzialmente sulla careggiata con una vistosa ferita sul capo e in difficoltà a rialzarsi, a rischio di essere investito. Gli operatori hanno subito fermato i veicoli in transito ma l'uomo è riuscito a rialzarsi e darsi alla fuga. Un testimone che aveva assistito alla dinamica dei fatti ha raccontato che i due stavano raggiungendo una struttura di accoglienza in via Corridoni. L'uomo lì presente, in chiaro stato di alterazione, aveva afferrato un coltello da cucina con l'intenzione di tornare con l'arma sul luogo della lite. Gli agenti hanno subito disarmato il 22enne e chiamato un'ambulanza che ha trasportato i due all'ospedale di Catinara. Denunciati i due uomini.